A proposito di queste lezioni, io le chiedo come ha interpretato le parole di Agnelli che ha detto che il Virenti non si vedeva in Lega da dieci anni. Secondo lei è un complimento o una provocazione? Ma è una provocazione, ma è non solo queste parole, ma anche come si è comportato durante tutto il Consiglio, l'Assemblea. Sì, ma mi è sembrata più che altro una zitella isterica in crisi da Stivenza. Per cui lasciamo perdere e pensiamo a una cosa più importante che è il lavoro che si aspetta di fare. Perché secondo lei non è piaciuta questa Lega divisa, che è così divisa? La Lega non è uscita divisa perché ha avuto 14 società che hanno votato un Consiglio, quindi credo che 14 sui 20 sia un numero importantissimo. Di conseguenza non vedo cosa abbia da ridire in questo senso il presente a noi.